Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video su Animal Crossing Horizon Ma prima di cominciare volevo ricordarvi una cosa molto importante Qualche giorno fa ho deciso di lanciare un contest dove voi dovete creare il mio costume da supereroe Quindi cosa dovete fare? Dovete disegnare all'interno di Animal Crossing nella sezione miei modelli Un costume a vostra scelta da supereroe Quindi spizzaritevi con le vostre idee perché il costume più bello verrà scelto sia per la serie Quindi comunque mi vedrete indossare il vostro costume all'interno dei miei video E non solo perché il vostro costume diventerà ovviamente il costume definitivo di Lightning All'interno ovviamente della serie da supereroe e potrete vedere anche un avatar disegnato con il vostro costume In ogni caso il vincitore comunque vincerà anche un premio all'interno di Animal Crossing Possono essere tanti soldi, possono essere tanti ticket ma questo ve lo dirò in seguito Avete tempo fino al 31 maggio per partecipare e mandarmi i vostri modelli E' importante che mi mandiate il codice del modello perché io li devo guardare e provare Quindi se non avete internet non potete condividere il codice del modello Leggete la descrizione per sapere come mandarmi i vostri codici Perché ho creato un indirizzo email per ricevere tutte le vostre immagini e tutti i vostri codici per il contest Quindi ragazzi avete ancora qualche giorno di tempo? Noi iniziamo subito e vi ricordo sempre di lasciare un like Iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella Allora ragazzi come state vedendo mi trovo alla Lightning Academy E mi sto allenando, mi alleno quasi tutti i giorni per diventare la più forte degli eroi E quindi facciamo i nostri esercizi mattutini per tenerci in forma E controllare il nostro potere perché se non lo sapete io ho il potere del fulmine Ma ovviamente mi chiamo Lightning e quindi non potevo avere un altro potere Ah ok, ora si che mi sento meglio dopo essermi allenata facciamo un po' di sacco Colpiamo il sacco E' molto molto rilassante colpire il sacco raga Scarico lo stress, penso all'hacker che mi ha portato via Carmelo e mi sfogo Colpisci Lightning, colpisci Poi faccio un po' di tapirulan E' importante fare il tapirulan ragazzi perché una si tiene in forma Un po' di panca con i pesi Forza, un, due, tre, un, due, tre Diciamo che la panca con i pesi non fa molto, vabbè Comunque Diciamo che per oggi può bastare Allora io tornerei in camera raga che a breve ho lezione No raga non ci credo Quella è Lighty Way Oh mio dio l'hacker ha preso in ostaggio tutta la mia isola Ha imprigionato tutti i miei abitanti, no raga Sono, sono senza parole raga Oh mio dio No No, 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 no Io non sono pronta per fermarlo Ma non posso tirarmi indietro ragazzi I miei abitanti hanno bisogno di me, la mia isola ha bisogno di me Questa volta non posso tirarmi indietro, la mia isola ha bisogno di me Io devo aiutarli, devo fermare l'hacker raga Questa volta lo affronterò Anche se il mio potere non è, non è completo E non riesco a controllarlo bene So che questa volta posso farcela Andiamo ragazzi, Lighty Way ci aspetta Mamma mia che tempaccio ragazzi Ma finalmente sono arrivata Lighty Way L'hacker ha messo queste sbarre qui davanti Pensa che basti così poco per potermi fermare Comunque non sa che insieme al mio potere è aumentata anche la mia forza Vai Lightning Creerò un piccolo passaggio Ok Sono riuscita a passare Adesso ragazzi Cerchiamo l'hacker Questa storia deve finire per sempre Ci riprenderemo i nostri soldi E non solo Pagherà per tutto il male che ha fatto Pagherà per quello che ha fatto a Carmelo Dove ti nascondi? Devi abbandonare quest'isola per sempre Adesso basta, mi hai proprio stancato Dove ti nascondi? Dove sei? So che sei qui tanto Eccolo, l'ho trovato Finalmente Lightning Ti aspettavo Adesso basta Devi andarti dalla mia isola Dimmi che cosa vuoi Facciamola finita una volta per tutte Perché veramente Non ti sopporto più Caro Lightning Non hai capito un bel niente Io non sono la tua vera minaccia Non sono colui che minaccia Tutto Animal Crossing Sono solo un pedino E non mi sconfiggerai mai Perché io sono ovunque Io sono chiunque Nessuno Può battermi Ah sì Staremo a vedere Io ti fermerò Magari non con la canna da pesca Però io ti fermerò Fatti sotto Forza Combatti Combatti Combattimento epico A colpi A colpi di Ash Forza Fatti sotto Combatti Combatti Non ho ancora stato il mio potere Sarà L'ultima carta da giocare Ragazzi Prima voglio sconfiggerlo Senza i miei poteri Come hai visto Non puoi nulla contro di me Sei debole Tu non puoi battermi Sono troppo forte per te Invece ti sbagli Io posso batterti Tieniti pronto perché questa volta Ti sconfiggerò No non ci credo ragazzi Anche lui possiede i suoi poteri Ma io ti fermerò lo stesso Sciocca Pensavi di essere l'unica ad avere dei poteri Mi spiace Ma anche io ho una sorella manica Ma è assinata Da No non anche io lo stesso Ch Aiuto No non Le Ma è assinata No non Alla Ma è assinata Ma è assinata Ma è assinata Guarda Ma è assinata Ma è assinata Ma è assinata B Ma è assinata Grazie a tutti. Grazie a tutti.